Ancora Miralem, si allarga Liahic, riceve in questo momento, chiama palla a destra, accetta l'area di rigore, ancora Adem, Adem, Adem in area di rigore, Adem, il tiro, gooo, 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 il gol di Adem, il gol di Adem, quarto gol, quarto gol in maglia giallorossa Liahic, aveva già segnato un gol straordinario in casa col Torino, ha replicato oggi qui a Bergamo e meno male, la situazione a destra è di parità, Adem Liahic, gran destro, si è accentrato dalla sinistra dopo il tocco da parte di Pjanic, in area di rigore ha evitato sia Bellini sia Stendardo e poi quasi al limite ha lasciato partire un gran destro in diagonale che ha fatto secco... Nengolan, prova a superare Carmona, lo scatti in avanti delle ninja, il tocco verso Liahic, in más de' rigore, Adem, Adem, il tocco da Nengolatino, gooo, 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 gooo Ninja, il Ninja, il Ninja, segna il gol del vantaggio della Roma, secondo gol in maglia giallorossa azione questa volta tutta di prima da manuale della squadra giallorossa pallone rubato a centrocampo bravo destro di testa a dare la palla a Nainggolan poi pallone ancora verso Di Aic di ritorno al ninja che di sinistro in diagonale fa secco